ma bentrovati amiche e amici rossoneri come la va siete tutti presi la regala di natali corri qua corri là prendi questo prendi quello io oggi giravo un po per le catene e c'è la follia c'è la follia in giro c'è la pazzia pura come tutti i natali del resto c'è la follia carrelli che si scontra la gente che si pia quello l'ultimo panettone che se lo contendono in tre cioè cose veramente folli io queste cose le vedo tutti i giorni perché comunque lavorando in giro anche con la grande distribuzione vedo queste situazioni che sono veramente paradossali detto ciò mi raccomando tu che ci stai guardando che mi stai guardando e tu tu e ancora non sei iscritto al canale fallo costa niente gratis gratuito però comunque ci dai un supporto a noi che lavoriamo tutti i giorni anche per voi ci dai un supportino fai un clic ti iscrivi al canale metti un pollicione su un like e ci hai fatto il regalo di natale a parte gli scherzi arriva la notizia che potrebbe avere del clamoroso che potrebbe veramente frizzerare un po tutti che è quella che il nostro grandissimo attaccante orighi potrebbe addirittura avere una lesione già ragazzi potrebbe avere una lesione e se così fosse entriamo nell'orbita dei volatili per diabetici in parole povere sono ca puntini puntini amari per tutti perché non dico che saremo nella cacca ma comunque lì davanti avremo dei grossi problemi non che fino ad ora non ce la siano cavati comunque origi è stato fuori diverso tempo già però fino a che punto fino a che punto giro può trovare la carretta sapendo che comunque non c'erano righi che con la lesione potrebbe star fuori anche due o tre mesi sapendo che ibrahimovic non si sa quando rientra ma anche se è in campo non può giocare 90 minuti al massimo ibra può avere 20 minuti nelle gambe 18 quello che è ed è comunque abbastanza statico ma è comprensibile a 41 anni quindi chi lo aiuta giro chi lo aiuta giro e questo è un problema questo è un problema che sicuramente la dirigenza dovrà provare a risolvere deve provare a risolvere ed è per quello che poi addirittura per legati aveva paventato l'idea di pavoletti di pavoletti io onestamente prenderei un attaccante in prestito per sei mesi se ce ne fosse uno in giro disponibile perché no perché poi magari a giugno fai il mercato serio e fai quello che devi fare in maniera più più mirata anche perché a giugno ti ritrovi poi veramente con ibra verso i 42 che sta rasentando veramente il folle e ti trovi con girù verso i 37 e ti trovi con orighi che non sai come te lo trovi sinceramente e ti trovi con un lazetic che continua a non giocare magari adesso giocherà un po di più chiaro che ammettere che orighi è stato un errore non ci sarebbe neanche da vergognarsi perché sbagliare umano e perché l'occasione fa l'uomo ladro in senso lato nel senso che orighi a zero evidentemente per Maldini e Massara era appetibile ma io onestamente dei giocatori a zero dei dubbi li nutro sempre ok chiediamocelo perché era zero questo giocatore una squadra come Liverpool non aveva problemi economici non aveva problemi di stipendiare un giocatore se fosse stato veramente valido ma questo è un mio concetto personale ma credo che molti si facciano questa domanda non sempre il parametro zero è un'occasione spesso lo è ma non sempre lo è e in questo caso secondo me non lo è stata chiaro che se orighi si riprende però non ti convince lo vendi anche un minimo un po di plusvalenza comunque l'hai fatta perché preso un parametro zero questo è l'unico dato positivo ragazzi di tutta la situazione è l'unico dato positivo di tutta la situazione ma bisogna intervenire lì davanti girù deve avere un supporto e spero che lo abbia prima possibile ora invece vi parlo di una occasione da urlo di una possibilità da urlo che se ne sta parlando se ne sta parlando negli ambienti già da qualche giorno attenzione a questo giocatore che il Milan insegue da tanto tempo parliamo di chi parliamo di Isco che si è recentemente svincolato la Siviglia si è svincolato a Siviglia Isco è a zero è sul mercato disponibile a zero pensate che per andare a Siviglia si è decurtato lo stipendio fino a prendere un milione netto a stagione quindi non ha nemmeno lo stipendio proibitivo non ha nemmeno una cosa assurda Isco è un giocatore cotto assolutamente no Isco bisogna solo di una squadra dove poter giocare con tranquillità e con motivazione anche perché ha solo 30 anni è un bambino rispetto ai nostri attaccanti che abbiamo davanti Isco è un trequartista un centrocampista e all'occorrenza può lavorare anche sugli esterni tornerebbe utile direi di sì direi di sì anche perché a costo zero recrutabile già a gennaio stipendio assolutamente abbordabilissimo e stiamo parlando di Isco uno che ha fatto più di 70 80 gol a real madrid non li ha fatti 15 anni fa non stai parlando di un quarantenne stai parlando di uno che li ha fatti 4 5 anni fa poi si è perso ha avuto dei problemi quello che vuoi ma le seconde occasioni non si vengono nessuno nel senso la possibilità di poter essere apprezzato in un team come il milan perché no io onestamente qualcuno di voi adesso sotto mi scriverà ma no è vecchio è marcio è bruciato è un giocatore andato il cimitero degli elefanti tutto quello che volete io non credo sia così io credo che un giocatore del genere possa ancora fare la differenza pirlo era pirlo però pirlo è andato la juventus che aveva già una certa età ve lo ricordate eppure eppure ha fatto un paio d'annate ad altissimi livelli perché perché pirlo ha ritrovato evidentemente la motivazione tutto quello che volete perché non dovrebbe ritrovarla a isco è uno che ti lavora su tutta la parte alta del centro campo è a zero stipendio adeguato è caro caro maldini massara pensiamoci anche solo un secondo magari pensiamo all'opportunità di portare anche solo sei mesi un anno non devi fare un contratto dieci anni io la vedo così e voglio sapere anche voi cosa ne pensate attendo una vostra risposta sotto nei commenti intanto vi auguro buon proseguimento di giornata sempre comunque ovunque forza mina noi ci sentiamo ovviamente domani e adieu